Ma, quindi, siete pronti per la prima battle, sì o no? Va bene, va bene, va bene, va bene, sono pronti, sono pronti e Albo parte in... 3, 2, 1, riport! 3, 2, 1, riport! 3, 2, 1, riport! 3, 2, 1, riport! Dieci! 3, 2, 1, riport! 3, 2, 1, riport! 3, 2, 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 riport! 4, 2, riport! 4, 2, riport! 5, 2, riport! 5, 3, riport! Sì 3, 2, 1, switch 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 3, 2, 1, switch